Ciao, in questo video vediamo come esportare un mondo presente all'interno del nostro software Minecraft Education Edition ed esportarlo sul nostro computer. Una volta che è sul nostro computer possiamo copiarlo su una cartella Dropbox, inviarlo per email, caricarlo su un sito web o copiarlo su una chiavetta USB pronto per essere poi importato dalla persona che ha questa chiavetta USB. Vediamo insieme il tutto. Clicchiamo il pulsante gioca e ogni nostro mondo caricato ha una matita al fianco. Proviamo a cliccare sul primo mondo, questo delle frazioni, scendo in basso con la rotella del mouse e ho il pulsante, questo che vedete ben evidenziato, esporta il mondo. Cliccando su esporta il mondo ho la possibilità di selezionare il mio file system e salvare. esportazione di livello completata ed è sufficiente questa operazione. Nel caso in cui io andassi ad esportare nuovamente il tutto, con lo stesso nome, il file system mi avverte che sto provando a sostituire lo stesso file, salvo, esportazione completata. Questo è tutto, in questo modo abbiamo la possibilità di esportare mondi pronti per essere condivisi con altre persone. A presto!